che favolo fai un caffè bella ma bella coi bella bella giornata bella d'estate vaaaaa affanco salve buongiorno buongiorno guardi io ho delle intolleranze non è che avete cornetti con farina biologica coltivata nei territori di siracusa quando piove nei mesi di febbraio buongiorno a tutti buongiorno un succo di frutta al fico no guarda mi dispiace ma il succo di frutta al fico non ce l'abbiamo no il fico sono io salve buongiorno avete cornetti allora guardi abbiamo cornetto marmellata cornetto crema cornetto cioccolato e anche cornetto vuoto scusi dal cornetto vuoto cosa c'ha io sto lavoro non lo volevo fare picchi buongiorno mi fa un cappuccino per favore arriva subito eh ah benissimo ascolti eh io il cappuccino lo prendo in tazza tiepida con caffè d'orzo del bengala bollente con latte di soia schiumato freddo tutto chiaro allora cappuccino diciamo e fino a qua ci siamo giusto poi ha detto tazza tiepida ma il caffè d'orzo bollente esatto scusi ma ma se io il caffè bollente lo metto nella tazza tiepida poi alla tazza tiepida non diventa proprio bollente no guardi non è come dice lei no infatti no io scusi il latte di che animale che il latte è latte di soia ma mi scusi lei non conosce la soia come no c'è pure la canzone dice ogni scarraffone bella mamma soia oscarraffone oscarraffone ciao